Adesso metto anche il livello di difficoltà del rift, prima sinceramente un po' ho fatto caso, ma sono un po' più duri però, come vedi. Alla prossima. Dopo ricordami quando siamo in città di guardare la classifica. Dopo ricordami quando siamo in città di guardare la classifica. Dopo ricordami quando siamo in città di guardare la classifica. Dopo ricordami quando siamo in città di guardare la classifica. Infatti la barra, non è che va su tanto... Non si schemi che hanno così... E' un po' più mostri. Ma non è detto, mica sempre. Sarà penso anche questo un po' rando, amico. Anche io ho levato l'abilità quella che mi fa correre veloce. E' un po' rando che mi fa la vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. quando qui esplode sti cosi se c'hanno i mostri vicino gli fanno danno ho visto ho visto ok No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. queste 3 gemmine sono tutte discreti comunque mi sembra che deve essere un po' laggato puzzle ring